Finalmente siamo tornati in presenza a fare i convegni, erano due anni, anzi forse anche abbondanti, che non si riusciva più a incontrare direttamente i nostri clienti, tutti i nostri principali clienti. Affronteremo questa sera un tema molto importante che è quello della finanza, soprattutto in questo particolare momento storico che stiamo vivendo. L'argomento principale sarà sicuramente come affrontare il mercato e come affrontare in questo momento questo periodo particolare in cui i mercati sono, tra virgolette, particolarmente nervosi, dovuti soprattutto alle crisi sia geopolitiche, di non poco conto, usciamo da un periodo abbastanza impegnativo che è quello di una pandemia che ha colpito forte un po' tutti, specialmente anche le famiglie, anche umanamente questo ci ha segnato, però i mercati hanno sempre qualcosa da dire, qualcosa da rappresentare. Quello che mi sento di dire è chiaramente affidarsi sempre a persone esperte, professionalmente preparate e questo mi sento di dire che Banca di Pesaro ha al suo interno persone veramente preparate che possono accompagnare di nuovo ad investire in maniera corretta i risparmi che ognuno di noi faticosamente mette da parte. Siamo qui per affrontare oggi un argomento estremamente importante che è la gestione dei propri risparmi, la gestione degli investimenti in questo momento particolarmente complesso, complesso perché funestato da una serie di situazioni, come sentiamo spesso parlare del tema inflazionistico, sentiamo dei problemi di natura geopolitica e sentiamo quindi parlare come conseguenza di importanti correzioni che avvengono sui mercati finanziari, sia sul comparto azionario che sul comparto obbligazionario. Siamo qui oggi a discutere su quanto importante sia capire che anche in questi momenti bisogna tenere la barra dritta e quindi capire il metodo che è importante seguire nella gestione dei propri risparmi a prescindere dalle situazioni contingenti che si manifestano. Condivideremo una serie di concetti, una serie soprattutto di numeri per dare un risvolto oggettivo al tema di oggi. Quindi un incontro importante, importante per il territorio, importante per le persone che in questo momento evidentemente stanno vivendo una fase sul piano emotivo abbastanza difficile.